Ciao a tutti, bacione e nomi dalla vostra neica! Sì! Video patatine! Perché queste andavano... Meritavano di essere viste da sole così Allora, aspetta Apriamoli da sole e sono quelle Delle Rainbow Eye Beh, cioè guardate il pacchetto, la confezione Solo la confezione, cosa non è di stupendo Io penso che tagliero via Queste qua, perché Le devo plastiche in qualche modo Devo fare qualcosa, e sono troppo belle E niente, puoi trovare Un crystal sticker, wow Non l'avevo letto io questo Vabbè, adesso andiamo a vedere Queste qua, non mi ricordo dove le ho prese Forse all'Hypercop Oppure, all'Hypercop queste? Perché adesso mi confondo Perché abbiamo fatto qualche giro in CODS Non ho trovate delle altre, poi non mi ricordo mai quelle che trovo di lì Quelle che trovo di là, ok, lascia perdere Sapete che anche voi, c'è stato qualcuno Di voi che mi ha detto, ci sono anche quelle delle Rainbow Però io non l'ho spoilerato, che le avevo già prese Eccole qua, adesso andiamo ad aprire Dai, vediamo, nel primo pacchettino Cosa troviamo? Non so, il pacchetto è troppo bello C'è un rartuto arcobaleno Poi loro sono bellissime Sono troppo piucciose con questi occhioni Sono veramente belle Allora, patatine, vabbè È la classica, normale Che vado a mangiare Sticker, eccolo qua Adesso vediamo Spesso doppione, anche no Figure Andiamo ad aprire il primo E vediamo Da quello che ho capito dovrebbe essere tutto glitteroso Allora Che carino Questi posso usare per iniziare La parola relax nella mia agenda Con questa R Guardate quanto è bella Tutta luccicosa Penso che sia giustamente la R di Rainbow Rainbow E guardate quanto è bella Con i brillantini No, troppo bella Adesiva, logicamente Troppo, troppo belle I sticker Io li adoro Adesso andiamo ad aprire Il secondo E speriamo di non trovare un doppione Anche perché Quelle che si possono trovare sono Vabbè Le due R così Ok Ci siamo Poi la scritta Proprio Altre lettere Vediamo Anche questo qua sarebbe bello Col cuoricino Ma sicuramente Non voglio tirarmela dietro Però io sono quella dei doppi Patatina Eccolo qua Eccidentemente Talmente davvero Trammete pochi di patatine Veramente Però merita Il pacchetto Veramente Troppo bello Sarà un doppio? 3 2 1 No Bello Quello che volevo Meno male C'è l'apertura facilitata Ma io uso la forbice Perché Mi scivolano le mani Sono talmente unito Il pacchettino E sono troppo belli questi Che carini E abbiamo trovato appunto Le due R E questi qua Dove c'è appunto La stella Il cuore Cioè Più di un cuore Uno grande Due picchi Troppo belli Guardate Vi faccio vedere Da vicino Questo è il mio cane Che butta il suo osso Per terra Non fateci caso Guardate che belli Sono bellissimi Tutti luccicosi Brillantosi Veramente belli Perciò Dai ne vale la pena Sono belle davvero Da aprire Queste patatine Niente dai Io le ho trovate lì Poi voi fatemi sapere Cosa Che sticker Voi avete trovato C'è la scritta Rainbow Sparkle Poi Vabbè Un'altra Altre lettere La scritta magic Così anche questa Era bella La scritta magic Vabbè dai Tutti carini Sono bellini Niente Per gli amanti Delle sticker Le sorpresine Che trovate Queste Delle rainbow Sono questi qua Perciò Vi do appuntamento Al prossimo video E fatemi sapere Nei commenti Se anche voi Le avete prese E gli sticker Che avete trovato Io sono qua Pronta a rispondere Un bacione Al prossimo video Ciao Ciao